buongiorno Mara un saluto per io al paparazzi secondo lei noi ce l'abbiamo l'X Factor come paparazzi? esatto certamente lui poi ci sta anche comodo al paparazzi lui ci sta anche comodo allora lo riprendiamo e vediamo lui ci sta comodo e io l'X Factor ce l'ho Mara? ma che ne so non ti conosco dai io ce l'ho l'X Factor noi abbiamo il nostro network che si chiama Rial Paparazzi su internet e quindi chiedevamo se il nostro network ha un X Factor non conosco a dirti la verità però andrò a vederlo grazie Mara così la volta prossima che ci incontriamo io ti richiedo se abbiamo l'X Factor tu mi direi sì o no oppure ciao